E che non te la vuoi fare una montana alla fritta? E facciamole insieme. Prendiamo l'impasto della pizza normale, facciamo delle piccole palline e poi le stendiamo con le mani. Le friggiamo in abbondante olio e poi le condiamo con del sugo di pomodoro già cotto, parmigiano e una bella fogliolina di basilico. In Cucina con Mamma vi auguro un buon appetito! E mi raccomando, restate sazi! Ciao amanti della cucina! Ciao!